Di cosa si occupa lei a Barilla? Allora io ho un ruolo in Barilla come responsabile della ricerca sulla sicurezza alimentare e sulla tracciabilità e l'autenticità degli alimenti, quindi l'area di cui mi occupo è un'area di ricerca su tutti i contaminanti emergenti, i rischi emergenti di contaminazione negli alimenti e le metodologie per scovare frodi e adulterazioni negli alimenti di fatto. Ho un secondo ruolo, diciamo invece più accademico, che è insegnare l'autenticità degli alimenti all'Università Cattolica di Milano e Piacenza e quindi diciamo che svolgo un po' questa doppia attività un po' diciamo con l'animo sia industriale che accademico. Ci può fare un piccolo riassunto sulla sua tesi su accademia e accademie e imprese? Dovrebbero essere in accordo per cercare di contrastare il fenomeno sulle frodi alimentari? Cosa ci può raccontare? Allora sicuramente rispetto diciamo al passato adesso c'è molta più sinergia tra industria e accademia. Ce n'è ancora da cercare perché comunque l'accademia tende spesso a sviluppare delle soluzioni che a volte possono non essere idonee dal punto di vista non tanto dell'efficacia ma quanto del giusto compromesso tra costi e benefici. Quindi il dialogo diciamo che è migliorato nel corso degli anni è stato soprattutto quello di fare in modo di filtrare il succo diciamo delle soluzioni sviluppate più dalla ricerca di base in accademia grazie poi alle prove concrete sul campo fatte dall'industria per tirare fuori quelle soluzioni che sono quelle che possono servire magari a fare i controlli rapidi immediati e poi le conferme solo di quei campioni, di quelle analisi che possono portare a un sospetto fondamentalmente. E quindi diciamo che questa cosa è migliorata negli anni anche grazie al fatto che ci sono sempre più fondi e finanziamenti sia a livello nazionale che a livello europeo proprio di progetti che vengono promossi per far lavorare a quattro mani industria e accademia e quindi grazie anche a questi finanziamenti sia nazionali che europei negli ultimi 15-20 anni questa sinergia è migliorata molto. C'è ancora strada da fare ma sicuramente ha preso un binario buono. Grazie. Grazie a voi.